Le autorità doganali pakistane distruggono 650 bottiglie di liquori. È solo una delle iniziative organizzate nel paese nella giornata mondiale delle dogane. Bruciati anche i farmaci e le droghe sequestrati per un valore di oltre 25 milioni di euro, in fumo quasi 5.000 kg di hashish in un paese dove l'uso delle droghe è in costante aumento.